Ciao carissimi, a quanto pare nel mondo si stanno verificando sempre di più gli effetti del crollo dell'egemonia statunitense. Quindi quello che è stata l'ultima importante dichiarazione di Putin, quella che lui fece al forum economico a San Pietroburgo, dove lui semplicemente ha affermato che nel mondo non c'è più unica forza che gestisce tutto, ma il mondo è diventato ormai multipolare, quindi ci sono vari poteri che si occupano della gestione delle loro aree di influenze e interagiscono a livello internazionale economicamente senza dover chiedere permessi allo sceriffo statunitense. Quello in grande linea è stato il discorso di Putin presso il forum economico. Con questa dichiarazione noi siamo entrati nella nuova era, nell'era di multipolarismo e ovviamente vediamo gli effetti di questo nuovo mondo. Cosa sono questi effetti? Ritorno alle vecchie livelli delle stabilità locali, quindi tutto quello che a livello geopolitico avveniva prima che gli Stati Uniti, che la Nato, intervenissero in varie situazioni cercando di portare la loro egemonia, la loro visione politica, i loro interessi commerciali nelle regioni, adesso sta tornando a livelli originali. E quindi questo si vede soprattutto da quello che sta accadendo in Ucraina, dove la Russia sta riprendendo quelli che erano una volta le zone dell'interesse, le sfere, l'interesse dell'Unione Sovietica o dell'impero russo, anzi l'Ucraina intera era sotto l'impero russo, poi c'erano influenze russe in Austro-Ungheria, nella zona bucovina di Romania, nella Bessarabia, in Polonia, Polonia era totalmente soggiogata all'impero russo, e quindi il rischio per questi paesi è che, diventato debole, il sistema americano li sottopone a questa visione imperiale da parte della Russia. E questo sta già avvenendo, lo stiamo già vedendo in questa guerra, in guerra ucraina, tutte le ambizioni di Vladimir Putin, tutto quello che lui afferma, tutto quello che lui fa, tutto quello che il suo esercito fa, tutto quello che fanno economicamente, non sono militarmente i russi, a partire dal crollo del dollaro, a partire da tutta una serie di spostamenti dell'attenzione economica verso l'Asia, e questo si capiva già, questo già si organizzava da tempo, solo che l'Occidente era troppo miope e sordo per capirlo, e tutto questo sta avvenendo in quella zona. Noi vediamo, se noi dell'Ucraina facciamo partire tanti piccoli linee logiche verso varie questioni, noi vediamo che la politica ucraina, ad esempio, ha influenzato anche le relazioni tra Russia e Iran, per farvi capire quanto lontano può arrivare dalla posizione geografica una questione geopolitica, per non parlare di quello che sta accadendo con la Turchia e così via. Lo stesso avviene in Iran. Noi abbiamo visto che Iran ha fatto gli accordi con la Cina, quindi la situazione in Ucraina ha cambiato radicalmente quello che è anche la visione geopolitica dei terzi paesi, quindi un Iran che da sempre doveva essere un po' più attento, andare a piedi di piombo, perché si è capito che, insomma, Stati Uniti d'America non lascerà mai questo paese a fare certe iniziative liberamente, sempre embargo economico, sempre minacce, sempre le guerre organizzate ad hoc attorno. Adesso l'Iran tranquillamente afferma che il suo partner è la Cina, che la sua politica estera è legata alla politica estera cinese, la sua economia è legata all'economia cinese e l'Iran ha già dichiarato che, insomma, per la Cina ha le porte aperte e fine. Cioè questa è la totale, come dire, ammissione del potere cinese nella regione. Simile cosa accade, ad esempio, in Taiwan. Noi abbiamo visto che Taiwan, la roccaforte del capitalismo, la zona creata appositamente da vari capitalisti occidentali, soprattutto dai britannici, c'erano in mezzo i francesi, poi i statunitensi, insomma, era tutto un sistema per dominare nella regione, in tutta Indocina, perché Taiwan era proprio una roccaforte del capitalismo, dei colonialisti nella regione. Adesso Cina semplicemente sta dicendo a tutto il mondo che se lo prenderà. Se ci sarà la guerra, che guerra sarà? Se Taiwan vorrà difendersi oppure preferirà non spargere sangue e accetterà le decisioni della Cina. Tutto questo sono le ipotesi, le possiamo discutere per delle ore, parlare dell'esercito cinese, cosa può fare, cosa non può fare. Però l'intenzione c'è, Cina l'ha già dichiarato. Abbiamo visto che tutte queste mosse di Nancy Pelosi, questa veramente, proprio a livello personale, un politico degradato, una figura che rappresenta proprio il sistema predatorio statunitense, lei con suo marito, che vivono sulla speculazione finanziaria, gente che non ha lavorato neanche un giorno nella loro vita, che non sanno cosa vuol dire lavorare. Persone che sono abituate soltanto a creare dei casini in giro per il mondo, sfruttando i loro collegamenti nell'alta finanza, nell'alta politica. Gente abituata a minacciare, a atteggiarsi da mafiosi, da criminali. Abbiamo visto che lei subito, con aereo, partita da qualche parte, chissà cosa volesse fare. Comunque nessuna Nancy Pelosi, nessun Biden, nessun Stato Unito d'America non cambieranno mai le decisioni della Cina. Cina se la riprenderà a Taiwan, i cinesi sono forti militarmente, loro hanno deciso di fare questo passo. Se è giusto o non giusto, comunque possiamo discutere su questo. A livello etico, ognuno di noi deve dare proprie considerazioni su ciò che sta avvenendo a Taiwan, però dobbiamo sempre partire dal fatto che le nostre considerazioni personali non cambieranno mai quello che è il percorso storico, quello che è la dinamica geopolitica attuale. Noi non potremo mai cambiarlo. Perché? Perché lì ci sono i sistemi, lì ci sono in atto le volontà storiche dei popoli che sono stati per troppo tempo sotto scacco del sistema corrotto predatorio degli Stati Uniti, della Nato, dell'Occidente, che continua a agire con una mentalità suprematista, con una mentalità da conquistatore nelle zone del mondo dove arriva con l'arroganza e mette in atto la propria politica anche attraverso le guerre e così via. Quindi Stati Uniti d'America è debole, Stati Uniti d'America non è più sceriffo del mondo e questo è un dato di fatto, non riescono più a farlo. Loro sono diventati uno dei grandi giocatori geopolitici, sicuramente lo rimarranno, sicuramente loro faranno ancora per tanto tempo di tutto per disturbare l'azione e la vita, l'azione geopolitica e la vita, sia economica che civile che sociale, dei paesi che loro vogliono sottomettere al proprio potere e ultimamente anche tutto quello che abbiamo visto tra Serbia e Kosovo è uno dei fattori della debolezza della Nato e degli Stati Uniti d'America. Cioè chi dice che la Nato non è mai stata più forte, adesso nuovi membri si aggiungono, il problema non è quanti membri sono nella Nato, il problema è il paese centrale che gestisce questa struttura, gli Stati Uniti d'America. Gli Stati Uniti d'America non sono più in grado di sostenere economicamente una macchina militare come la Nato, cioè hanno gonfiato il palloncino ed è diventato troppo grosso, ingestibile, troppi soldi ci vogliono, l'economia americana è in difficoltà, loro non riescono più a sostenere le guerre, questo l'abbiamo visto in Afghanistan, l'Afghanistan è stato abbandonato dopo più di vent'anni delle guerre, di distruzioni, quasi trent'anni se mettere insieme tutte le operazioni. Insomma, gli americani non sono riusciti a fare niente e non sono soli, non erano soli là, c'erano britannici, c'erano italiani, tutto la Nato c'era, tutti i paesi Nato, persino Ucraina era in Afghanistan, che non era membro Nato, ma comunque era un membro affiliato alla Nato, un paese affiliato, un paese membro de fatto, per cui chi dice che Ucraina non è nella Nato, che non c'era pericolo, dovrebbe, insomma, smettere di dire le menzogne, e guardare la realtà con gli occhi aperti, perché non ci può prendere in giro, cioè noi non siamo ignoranti. Quando un paese partecipa di fianco all'invasione statunitense di Iraq, questo vuol dire essere de fatto un membro della Nato. Quindi quando Ucraina, insieme con americani, ha invaso l'Iraq, significava che ha fatto le sue scelte, sia geopolitiche che militari che economiche. Quindi è un paese de fatto affiliato alla Nato. E quindi in Serbia oggi, accade proprio questo, in Serbia, tra Serbia e Kosovo, cominciano a tremare i vecchi sistemi, comincia a tremare tutto quello che si basava sul concetto di invincibilità degli Stati Uniti d'America e della Nato. Adesso Stati Uniti d'America e la Nato non fanno più paura ai paesi che per anni si trovavano sotto il loro potere, non lo vogliono più fare, non lo vogliono più seguire questa forma del dominio e ovviamente cercano di cambiare l'asset dei poteri nelle loro regioni, vogliono riprendere tutto quello che era prima loro, quello che apparteneva a loro, dove loro esercitavano proprio dominio, propri interessi e quindi quello che accade oggi tra Serbia e Kosovo e anche grazie alle decisioni scelerate che avevano preso Stati Uniti d'America, la Nato, quando sono entrati in gamba tese in una regione così complicata, molto instabile, dove da secoli la geopolitica viene applicata in maniera proprio chirurgica, dove bisogna essere molto attenti. Loro dovevano imparare dalle vecchie esperienze dell'impero ottomano, dalle esperienze dell'impero russo, dalle esperienze dell'impero austro-ungarico, cioè capire la storia della regione. Loro invece sono entrati lì, hanno diviso tutto come sono abituati di fare, ma questo sistema oggi non funziona perché tutta la loro corruzione, il traffico di droga che hanno organizzato nella regione, questa eroina che arrivava da Afghanistan e veniva sparpagliata in giro per l'Europa grazie alla CIA che per abitudine ormai gestisce queste schifezze in giro per il mondo. Tutte le loro pressioni geopolitiche militari, tutto questo sta uscendo fuori, tutto questo dà fastidio alle persone e le persone non lo vogliono più, non vogliono più sopportare questo dominio brutale e predatorio delle Stati Uniti d'America e finalmente questo sistema sta cedendo, sta crollando, sta mostrando i segni di debolezza, per cui se voi vi domandate perché avvengono in giro adesso nel mondo tutte queste situazioni, la risposta è una, perché l'egemonia delle Stati Uniti d'America è finita. Vi auguro buona giornata, vi mando un forte abbraccio, per favore seguitemi sui miei canali Instagram, Facebook, YouTube e anche su Telegram, su YouTube mettete un pollice in alto, campanellino, così vi arrivano tutte le notifiche quando io carico nuove video. Vi mando un forte abbraccio.